Concorso in corruzione continuata, soppressione, falsità materiale e ideologica di atti pubblici a fronte di condotte delittuose verificate all'interno dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018. Con queste accuse, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito nove ordinanze di custodia cautelare. L'indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, vede quali destinatari della misura degli arresti domiciliari il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, Domenico Tito Amic, e la responsabile dell'ufficio legale dello stesso ispettorato, Maria Rosa Trovato, nonché Marco Forzese, già deputato regionale nell'ultima legislatura siciliana e candidato non eletto alle regionali del 2017, e Antonino Nicotra, già consigliere nel Comune di Catania. È stata inoltre disposta la misura interdittiva nei confronti di Francesco Luca, attuale direttore sanitario dell'Asp di Catania, sospeso per 12 mesi dall'esercizio del pubblico servizio per fatti concernenti sia l'attuale funzione che il suo ruolo di rappresentante legale dal 2009 al 2015 dell'Enaip. Ignazio Maugeri, attuale rappresentante legale dell'Enaip, destinatario del divieto di esercitare attività di impresa o assumere uffici direttivi in persone giuridiche. Giovanni Patti, titolare dell'omonimo studio commerciale con sede a Giarre, sospeso all'esercizio della propria attività professionale. Orazio Emanuele, rappresentante legale di società esercenti, l'attività di stabilimenti balneari e di orto, cultura e vivaistiche, destinatario del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali. Salvatore Calderaro, gestore di una tabaccheria, anche gli sospeso dall'esercizio di attività imprenditoriali. Le indagini hanno svelato l'esistenza all'interno dell'Ispettorato di un consolidato circuito corruttivo alimentato da saldi e legami di amicizia che uniscono corrotti e corruttori. È stato appurato come il continuo scambio di utilità, pacchetto di voti, incariche alla regione siciliana, assunzioni in ospedale e fornitura di beni, ruotasse intorno all'illegittima archiviazione di verbali originati dagli accertamenti ispettivi dai quali sono emerse spesso violazioni per lavoratori assunti irregolarmente o in nero. In alcuni casi si è assistito anche alla materiale sperizione dei verbali stesi o comunque ad audizioni amichevoli nelle quali è stata palese la mancata tutela degli interessi era reale in gioco. L'attività di indagine condotta alla Guardia di Finanza ha permesso di tracciare svariati procedimenti amministrativi gestiti in modo parziale dagli indagati e nei quali il potere discrezionale attribuito al direttore dell'ente pubblico anziché essere interpretato quale fonte di responsabilità è stato asservito alle volontà dei corruttori comprimendo così definitivamente gli interessi pubblici confliggenti. A seguito dell'operazione l'assessore regionale Mariella Ippolito ha disposto l'invio immediato di un sostituto alla direzione dell'ispettorato territoriale del lavoro di Catania per consentire la piena funzionalità del servizio nel rispetto della legalità.